Siamo a un passo dall'accordo, siamo alla lettura degli ultimi testi che ancora erano da sistemare su alcuni punti che ci tenevano distanti dalla possibilità di firmare. Il testo è un accordo assolutamente importante perché cancella qualsiasi possibilità di esuberi, non ci saranno licenziamenti, partiranno da subito dopo il distacco di tre mesi 10.700 lavoratori, per altre ci sarà la possibilità di un incentivo all'esodo volontario o incentivato ovviamente con un fondo di oltre 250 milioni di euro. Sostanzialmente tutti i lavoratori alla fine del piano industriale avranno la garanzia di poter essere riassunti da ArcelorMittal. Questa è la garanzia più importante che abbiamo sul piano, che è molto importante perché abbiamo questo come grande motivo di dissenso. Questo accordo è anche molto importante perché grazie alla caparbietà delle organizzazioni sindacali che hanno agito con forte azione unita, sono riusciti a convincere il governo e il ministro Di Maio a un atteggiamento molto più concreto di questi quattro mesi che sono stati persi in una polemica politica molto strumentale. La nostra caparbietà ha convinto il ministro a occuparsi del futuro dei lavoratori dell'ambiente, la sua dichiarazione a sostegno di condivisione dei contenuti dell'accordo è un fatto importante. Nelle prossime ore, una volta firmato l'accordo, inizieremo l'informazione e il confronto con i lavoratori in tutti i reparti di tutte le fabbriche del gruppo ILVA. Questo sarà importante per poter far esprimere poi i lavoratori sui contenuti dell'accordo. Ovviamente noi siamo fiduciosi che la forza compatta delle organizzazioni sindacali porti a un consenso importante dei lavoratori. Questo accordo porta a 4,2 miliardi di investimenti, in parte sul piano ambientale, in parte sul piano industriale e che sono un dato assolutamente decisivo per ridare salute, ambiente, occupazione e sviluppo alla città di Taranto e alla siderurgia italiana. Dobbiamo andare in onda.